Inizia l'avventura per andare a riprendere Di Beccio. Di Beccio a Capraia si vede bene al dattero. Ci sono dei compagni d'avventura, ci presentiamo tutti, io sono Fabio, Davide, Davide e Sara. Iniziamo con la salita al vecchio carcere, abbiamo messo le ridotte perché siamo in cinque La macchina ha quattro lottronutrici e ora iniziamo. Non voglio passare davanti a nessuno se hai bisogno di fare riprese. E' stato il mio lavoro per vent'anni, il mio operatore. Quanto fa il taglio con il cavallo. Palla un po' Scusate. 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 Grazie a tutti Molto più protetto Grazie a tutti 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 Grazie a tutti